KAMI CHI WAH Ciao a tutti pannacorne e pannacorne Come state? Io molto molto bene Oggi sono qua per fare un nuovo video cioè copio le foto di Ariana Grande per una settimana sul mio Instagram Vi ricordo di seguirmi su Instagram mi chiamo MaricassoStyle In questo video vedremo se sono aumentata con i like se le foto che copio Ariana Grande hanno più like, di quanti follower sono aumentata vedremo un po' tutto questo analytics in Instagram Ok ragazze sono vestita in questo modo quindi ho questa pelpa molto molto larga è un pantaloncino dell'Adidas che poi non ci vedrà e ho fatto i space buns però ho messo questo codino di velluto come c'era lei nella foto che non ve la prendo qua da accedere da qualche parte è molto carina questa foto quindi spero di ricrearla La prima foto che ho messo è questa qua e in pratica ve l'avete qua da qualche parte mi ho messo due perché non volevo rovinare il feed con una foto di bianco e nero però vediamo un po' questi sono dei commenti che sono arrivati hanno detto a quelle persone che erano simili comunque delle foto di Ariana Grande vedi mi si è sembrata subito di Ariana Grande Marika Stiles è uguale ad una foto di Ariana Grande comunque alcune persone l'hanno detto quindi diciamo che è approvata poi ditemi giù nei commenti quelle che approvate quelle che sono simili quelle che non sono simili non vi piacciono insomma ditemelo e se avete capito che stavo copiando le foto di Ariana Grande perché siete molto oschi e così mi sono messa vicino all'altra parte di mia mamma e in pratica guardate quante cuscine ho messo perché se no non ci arriviamo però speriamo che la foto non si veda e via allora io ho messo anche in quasi tutte le cose la via di Ariana Grande allora in questo ho messo Costa Rica una persona ha detto ma cosa è scritto sotto però nessuno ha detto che assomigliava da Ariana Grande anche se secondo me era abbastanza simile e appunto è fatta così ho questo pantalone militare come lei però nessuno l'ha detto quindi non so se mi ribocciata o promessa ragazzi la terza foto è questa qua vi metto una foto appunto qua da qualche parte e vado a cercare di ricrearla anche se devo dire che è molto facile quindi ci proviamo lei ha la testa tipo un po' girata il cappello si vede poco e tipo ha un sorrisino ragazzi vediamo come è venuta ok allora questa qui invece vediamo se qualcuno ha scritto qualcosa somigliante ad Ariana Grande però io penso di no perché comunque no infatti no infatti no perché in pratica era un selfie ed era comunque quasi irriconoscibile perché ho messo solo delle foto e niente di irriconoscibile insomma quindi appunto ho messo anche la grana per farla più simile ma niente da fare nessuno ha detto quindi però per me sembrava promossa è abbastanza simile però comunque è difficile da notare questa somiglianza perché comunque tutti i selfie sono simili sto per fare un'altra foto e in pratica ho fatto questo codine non perché ha questa fila diciamo diversa e in pratica ho messo anche la mollettina perché appunto il ciuffo se ne usciva fuori quindi ho dovuto mettere la mollettina ho questa canotta bianca come ce l'ha lei in questa foto che vabbè vi lascerò qua da qualche parte e il profumo di Ari e poi mia sorella con le liner mi ha disegnato questo cuoricino che appunto lei ha il tatuaggio a cuore e mia sorella mi ha disegnato questo tatuaggio finto con le liner appunto a forma di cuore come il suo quest'altra qui invece non so se neanche a questa qui più che altro le ultime hanno notato la somiglianza neanche a questa qui purtroppo ehm solo una ragazza mi ha chiesto come si chiama il profumo che mi rispondo in questo video si chiama Ari di Arianna Grande anche se io ho anche le ziali sia sui coleg che mi ha giocato e mi ha giocato questa 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 è una diretta caduta quindi penso sia promossa perché comunque è abbastanza similare dai carina ah poi molti di voi mi avete chiesto se ho un tatuaggio e no vedete non ho tatuaggi era solamente l'ho fatto con le liner per appunto assomigliare più alla foto di Arianna Grande visto che lei ha il tatuaggio allora in questa foto penso che sia stata veramente promossissima perché tantissime persone siete su una porta vedete veramente la maggior parte dei commenti sono solamente che ho copiato Arianna Grande quindi questa è super promossa sono super felice ciao ragazzi allora in pratica sembra che sono tipo inquietante perché ho la luce del telefono se non vuoi si vede niente e in pratica sono in macchina per fare questa foto che è questa che vi metto qua da qualche parte questa terza grigia e quindi facciamola questa foto invece ha avuto molto successo devo dire perché tantissime persone l'hanno detto allora in pratica non stai facendo la challenge dove metti foto come Arianna no vedete sempre Arianna sto facendo un video dove copia Arianna comunque veramente tanti anche qui ok ragazzi ho questa gonna blu il cane che mi serve per fare una foto mia mamma è di là e questo qua di nero come lei quindi facciamo la foto ragazzi c'è il cagnolino adesso faremo la foto con lui questa qui invece l'ho messa oggi in pratica ho iniziato da martedì scorso e ieri non l'ho messa perché ho voluto metterla oggi in odore del compleanno di Arianna Grande e questa ragazza ha scritto ho capito tutto oggi posto il nuovo video in odore del compleanno di Arianna Grande e il video è quello dove ricopi delle sue foto quindi che marziosa sei stata favolosa hai capito tutto e anche questa stai copiando Arianna Grande però proprio quella ragazza ha capito tutto quindi bravissima top prendo una foto a caso diciamo questa qui e ha avuto 1842 like e tipo prendo una foto a casaccio di Arianna Grande ha avuto 2330 like e quindi diciamo che ha avuto diciamo una bella somma differente di like molto carina questa cosa yeah prima quando ho iniziato questa diciamo cosa di mettere foto di Arianna Grande eravamo a 15700 follower visto che ho fatto lo screen adesso siamo a 16900 quindi siamo saliti di più di 1000 follower in una sola settimana bene ragazze il video è finito se vi è piaciuto lasciate tanti tanti like iscrivetevi al canale e seguitemi sui miei social che come sempre vi lascio giù nell'info box e vi volevo chiedere una cosa visto che in pratica la settimana scorsa ho messo una live ho fatto una live a posto del video vi piace che faccia delle live su youtube rispondete nei commenti ah e poi gli auguri a Arianna sei la mia reggina la mia cantante preferita ti adoro ho quasi tutto il suo merchandising riguardanti tipo oggettini profumini io l'adoro quindi buon compleanno più 25 yeah e quindi niente questo video può finire qua vi mando tanti tanti bacini sayonara e volete altri video così magari dove copio delle altre famose le foto sayonara ciao 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 ciao